Alessandro Beber testimonial Mie di Tergine Val Sudana e trapiantato in Valle dei Laghi. Guida alpina dal 2008 specializzato in Polivalente. Dove stiamo andando e cosa stiamo andando a fare? Stiamo navigando verso la scogliera Serenella, sul lago di Garga, per provare un'attività che si chiama Deepwater Solowing. L'arrampicata senza corde sul lago, dove se si cade, si cade in agra. Quali sono i tuoi luoghi preferiti? Le Dolomiti, le montagne intorno a casa. Progetti per il futuro? Troppi per starci in un'intervista. Come e quando è nata l'idea di questo incontro tra Arco e Riva del Garda? L'idea ci è venuto parlando con Alessandro. Ci siamo incontrati con i colleghi francesi a Lisboa quest'inverno. Perché non fare un'attività di ruote? L'idea ci è piaciuta. Grazie a Montaigne, al team francese e al team della fila italiana, siamo riusciti a organizzare questo bellissimo evento oggi. Siamo molto contenti perché abbiamo avuto delle buone risposte. Il successo di questa giornata è sicuramente anche grazie alla collaborazione che abbiamo avviato con Alessandro Bebe. Ci stiamo soprattutto divertendo. Un bel ambiente con delle belle persone. Sono veramente contenta. Avanti così! Grazie a tutti!